Legge elettorale ultimatum a frattura, l'assemblea provinciale del PD di Sena ribadisce il no al collegio unico ed avverte se il governatore non ritira la proposta sarà a rottura con il suo stesso partito. Cardarelli sotto controllo, il forum per la sanità di qualità torna a contestare il piano operativo regionale e denuncia ancora la riduzione del ruolo dell'ospedale di Campobasso, chiesta al Consiglio Comunale del Capologo la costituzione di una commissione di controllo. Acqua razionata, emergenza idrica, a partire da domani ridotto il flusso in tutti i comuni della regione, rubinetti a secco di notte in molti centri del Molise e Petraroia denuncia la cattiva gestione di Molise Acqua. San Pietro Avellana festeggia il tartufo, chiude con successo la ventitresima edizione della mostra mercato del tartufo bianco, quest'anno caratterizzata dall'inaugurazione del museo archeologico. Edizione della domenica del nostro telegiornale, bentrovati, in apertura c'è la politica con la rivolta nel PD molisano contro fratture e contro la proposta di legge regionale che prevede il collegio unico, l'assemblea provinciale del partito di Isernia, allargata anche Laura Venitelli, Michela Fanelle e Pasquale Marcantonio, segretario della federazione PD di Termoli, ha dato l'ultimatum al governatore o ritira la proposta o sarà rottura con il suo stesso partito. Domani intanto una delegazione incontrerà frattura a Campobasso. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Stop del partito democratico al governatore Paolo Frattura e alla sua legge elettorale regionale fondata sul collegio unico. Dopo i ripetuti segnali di insofferenza arrivati dalla federazione di Isernia e da quella di Termoli, la nuova battuta d'arresto arriva dall'assemblea provinciale di Isernia del PD, svoltasi alla presenza di Laura Venitelli, Michela Fanelli e del segretario della federazione Basso Molise, Pasquale Marcantonio, giunto a Isernia con una propria delegazione. Dalla riunione è emerso un malcontento generale verso le recenti iniziative di frattura in materia di riforma elettorale, con uno scollamento sempre più evidente rispetto alla base a causa della scassa sensibilità dimostrata dal governatore, rispetto al delicatissimo tema della rappresentanza dei territori periferici, sollecitata da più parti oramai da lungo tempo. Inoltre più di qualcuno ha rivendicato la necessità di rimettere al centro della politica del PD la questione etica che riguarderebbe una parte importante dell'esecutivo in carica. Nonostante gli interventi della Fanelli che ha agito in veste di pompiere buttando acqua sul fuoco delle polemiche, l'atmosfera a Isernia era tesissima. Punto fermo per la federazione del PD di Isernia, ancor più per quella basso molisana, resta il deliberato dell'assemblea regionale del 27 maggio scorso, svoltasi a Termoli. In quell'occasione il PD si espresse per tre collegi circoscrizionali, per l'eliminazione del listino maggioritario e del voto disgiunto e per l'equa rappresentanza di genere. Principi questi corrispondenti per buona parte alla prima versione, prima che fosse mendata dai consiglieri regionali Scarabeo, Totaro e Lattanzio, che avevano optato per il mantenimento del voto disgiunto con un premio di maggioranza. Dunque indietro non si torna sulla base di quanto discusso venerdì e la volontà di Frattura di portare in aula un'altra proposta ha acuito le distanze con chi non è mai stato particolarmente tenero con le politiche del governo Frattura, no dunque ad una legge elettorale per forza che si discosti dal mandato ricevuto dal PD. Con la federazione basso molisana particolarmente agguerrita da parte degli iscritti della zona adriatica non si escludono infatti due reazioni di protesta, a cominciare dall'autosospensione in blocco dal partito fino ad arrivare ad altre iniziative più eclatanti in vista delle regionali. Da sottolineare poi che l'attuale maggioranza di governo conta 11 consiglieri, compreso il Presidente della Regione. Se passasse la proposta di legge del Collegio Unico con 11 voti determinante sarebbe appunto il Governatore che in quanto iscritto al PD non può non tenere in considerazione la volontà dell'Assemblea regionale. Per Frattura la strada si fa sempre più stretta e la velata minaccia di parlare della questione etica due giorni dal voto di fiducia in Consiglio regionale suona politicamente come una campana morto per il Governatore. La riunione si è conclusa con la decisione di mettere insieme una delegazione che incontrerà Frattura già domani pomeriggio per cercare di farlo tornare sui suoi passi. Un incontro a cui parteciperà anche la Presidente del partito Venitelli, più che mai determinata a far rispettare la volontà dell'Assemblea e probabilmente più che pronta ad approfittare della spaccatura magari per soffiare la poltrona proprio a Frattura. Cambiamo argomento perché torna a farsi sentire il Forum per la Sanità pubblica di qualità e lo fa chiedendo l'intervento del Comune di Campobasso. Sentiamo perché. Non molla la presa il Forum per la Sanità pubblica di qualità in merito ai problemi tecnico-operativi del piano sanitario regionale e lo fa stavolta chiedendo l'intervento del Consiglio Comunale di Campobasso come organo istituzionale rappresentativo del capologo di regione. Nei giorni scorsi una delegazione del Forum guidata da Itolo Testa ha incontrato il Presidente del Consiglio Comunale di Campobasso, Michele Durante. Al centro dell'incontro soprattutto la situazione dell'ospedale Cardarelli, privato di molti reparti fondamentali per garantire assistenza e cura del cittadino, in pratica quasi smantellato, ma individuato dal piano operativo sanitario del Molise come hub di riferimento regionale. Hub è un sostantivo inglese che indica reti informatiche collegate tra loro ma anche aeroporto scali marittimi di transito, ossia scali per raggiungere la meta fissata. Ed è proprio questa l'accelerata filosofia del piano operativo sanitario dell'era frattura, far lavorare l'ospedale Cardarelli come hub per le specialistiche di cardiologia, cardiochirurgia, neurologia e neurochirurgia. In sintesi, i pazienti di cardiologia e cardiochirurgia dal Cardarelli vengono smistati alla Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II di Campobasso. Quelli di neurologia e neurochirurgia vengono smistati al Neuromed di Pozzilli, una situazione inaccettabile più volte denunciata anche dal Forum della Sanità Pubblica di Qualità, perché il concetto di hub può valere per i dati informatici e passeggeri, non per le cure urgenti che spesso possono valere vite umane. A questo proposito, nel corso dell'incontro a Palazzo San Giorgio è stata ancora una volta evidenziata l'oggettiva difficoltà nel procedere con efficace e celerità alla presa in carico del paziente nei casi di gravità delle patologie. La tempestività degli interventi è stato letto e fondamentale e il dovere organizzare trasferimenti verso la Cattolica per le patologie cardiache ed addirittura verso il Neuromed di Pozzilli per neurologia e neurochirurgia mette seriamente a rischio vite umane. Un problema già più volte denunciato senza esito. Ora il Forum per la Sanità Pubblica di Qualità ha chiesto al Presidente Durante e per esso al Consiglio Comunale di Campobasso di promuovere la costituzione di una commissione di controllo che monitorizzi costantemente la situazione dell'ospedale Cardarelli ed adotti le relative ed opportune iniziative. Richiesta accettata con l'aspicio che certe scelte giudicate da molti assurde possano essere cambiate. È stata raggiunta in conferenza unificata l'intesa per presentare il Piano Plurinale di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione e distruzione per le bambini e bambini da 0 a 6 anni. Il piano che ha una durata triennale prevede l'assenazione alle regioni di 209 milioni di euro che vengono erogati dal Ministero dell'Istruzione direttamente ai comuni beneficiari in forma singola associata. Al Molise andranno 731 mila euro. Si finanzieranno interventi in materia di edilizia scolastica sia con nuove costruzioni sia con azioni di ristrutturazione e restauro di qualificazione messa in sicurezza e risparmio energetico di stabili di proprietà delle amministrazioni locali. Le risorse sosterranno anche parte delle spese di gestione per l'istruzione da 0 a 6 anni con lo scopo di incrementare i servizi offerti alle famiglie nonché di ridurre i costi che devono sostenere. E da giorni sono iniziate a termoli i lavori di rifacimento dell'asfalto. Da domani un cantiere verrà aperto nel cuore della città tra Corso Nazionale e Corso Umberto I dove sarà vietata la sosta e il transito delle auto fino al prossimo 10 novembre. Sentiamo Manuela Iorio. Nei giorni scorsi il comune di Termoli ha avviato una serie di interventi di rifacimento dell'asfalto in tratti rovinati di Viale Trieste e Via Martiri della Resistenza. È stata interessata dai lavori anche la rotatoria del vecchio ospedale all'ingresso della città al cui centro sono rappresentati il meridiano e il parallelo che danno l'ora dell'Europa centrale. È stato sostituito il vecchio marciapiede rotto in più punti intorno alla rotonda e realizzato uno completamente nuovo. È stato asfaltato anche il primo tratto di Via del Molinello. Interventi questi ultimi che su disposizione del comune sono stati effettuati di notte per non creare disagi in uno dei punti nevralgici della città e dove si concentra il maggior flusso di veicoli. Ma a partire da domani un altro cantiere verrà aperto nel cuore di Termoli tra Corso Umberto I e Corso Nazionale, anche qui per risistemare l'asfalto e ridisegnare la segnaletica orizzontale. Proprio per consentire i lavori il comune ha emanato una serie di restrizioni per il traffico. Da domani e fino a venerdì 10 novembre ci sarà divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli e la sospensione temporanea della circolazione con divieto di transito per entrambi i lati dei tratti interessati di Corso Umberto I, compreso tra Corso Fratelli Brigida e Piazza Garibaldi, e di Corso Nazionale, compreso tra Corso Umberto I e Via Cairoli. La circolazione verrà spostata su percorsi alternativi che saranno regolamentati dalla stessa ditta che si sta occupando dei lavori. È sempre da Termoli da registrare purtroppo un nuovo furto all'interno della farmacia dell'ospedale Santimotio. Il colpo intorno alle 2 di questa notte, quando i gnoti hanno scardinato la porta interna dell'ospedale, sono riusciti ad entrare indisturbati. Da un primo controllo mancano molti farmaci dopanti in genere ed eparina. Da una prima stima si tratta di un furto del valore di diverse migliaia di euro. Ad accorgersene la vigilanza che intorno alle 2.30 durante il giro interno ha notato la porta forzata sul posto. I carabinieri per i rilievi si tratta del secondo furto nel giro di pochi mesi, neanche due mesi. In quello di settembre erano stati sottratti farmaci tumorali per un valore di centinaia di migliaia di euro. Non ci sono telecamere né sistemi di allarme nello stabile e sul colpo indagano i carabinieri. E da domani e per i prossimi 20 giorni l'acqua sarà razionata per tutti i comuni molisani. Nonostante il mese novembre ed una stagione d'autunno che dovrebbe essere caratterizzata da copiose piogge in Molise per la pressoché totale mancanza di precipitazioni ed anche per una non corretta gestione della situazione e ancora una volta emergenza idrica. Molise Acqua ha scritto ai prefetti di Campobasso e di Serna e a tutti i sindaci per raccomandare da domani di utilizzare l'acqua con attenzione e non sprecarla perché per i prossimi 20 giorni il flusso in uscita sarà ridotto ed ogni comune potrà scegliere di interrompere l'erogazione dell'acqua la notte e di procedere in maniera diversa. Da Molise Acqua si affrettano a dire che non vi è nulla di allarmante ma il livello della diga del licione è sceso di 4 metri e mezzo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno da qui la decisione di razionare l'acqua ai comuni. Questo comporta cascata per usare un efemismo che nei serbatoi comunali arriverà meno acqua e dunque i sindaci si regoleranno di conseguenza. Qualcuno lo ha già fatto in queste ore prima che iniziasse la riduzione del flusso da parte di Molise Acque. Alcuni centri come Monte Cilfone e Larino hanno deciso di chiudere il serbatoio di notte dalle 21 alle 7 del mattino successivo così anche petacciato e palata. E mentre si fronteggia l'emergenza il consigliere regionale Michele Petraroia con una nota inviata alla stampa accusa Molise Acque nonostante i progetti di riforma è un'azienda commissariata da anni con problemi economici e carenza di personale ha detto l'esponente politico. Non sono stati recuperati i crediti vantati verso altre regioni per l'acqua ceduta nonostante il presidente della regione fosse stato a ciò è incaricato dal consiglio regionale. Ha aggiunto Petraroia che si chiede anche chi controlla in realtà la situazione lasciando immaginare la risposta. Nessuno. Giornata conclusiva a San Pietro Avellana della ventitresima edizione della mostra mercato del tartufo bianco. Un prodotto quest'anno difficile da trovare viene infatti venduto a prezzi che oscillano tra i 4 e i 6 mila euro al chilo ma questa la ventitresima è stata un'edizione particolare perché è stato inaugurato il nuovo museo archeologico e ce ne parla Sergio Di Vincenzo. Le persone che ieri e oggi hanno deciso di andare a San Pietro Avellana per acquistare o mangiare direttamente sul posto prodotti a base di tartufo bianco hanno avuto modo di scoprire che il paese ha anche altri tesori da mettere in mostra. L'ultimo gioiello è il nuovo museo archeologico fresco di inaugurazione che ospita una mostra di grande interesse realizzata con i reperti provenienti dalla necropoli di località Piana Fusaro. Un altro importante tassello che si aggiunge al progetto di più ampio respiro che punta alla promozione turistica del territorio sotto ogni punto di vista. Abbiamo voluto inserire l'inaugurazione della sezione archeologica del museo civico di San Pietro Avellana. Museo civico già presente per la sua parte demo etno-antropologica completamente rivisitato nell'ultimo periodo grazie alla collaborazione con la sovrintendenza del Molise e poi soprattutto inaugurazione e completamento del museo archeologico con allestimento di una mostra di epoca arcaica. Raccoglie i reperti rinvenuti qui nel 2004 e restaurati appunto grazie a un finanziamento della presidenza del Consiglio dei Ministri che consentirà a questo museo di essere attrattivo e di essere un punto di riferimento turistico e culturale sul territorio. La mostra sulla necropoli arcaica di San Pietro Avellana realizzata in collaborazione con la sovrintendenza del Molise offre informazioni importanti sulla gente che ha popolato questo territorio ancora prima dei sanniti. Si nutrivano soprattutto di carne e meno di cereali e di carboidrati cosa che ci fa capire che l'attività principale era la pastorizia del resto siamo all'incrocio di importanti vie tratturali. I defunti sono raffigurati come guerrieri quindi normalmente hanno la lancia, alcuni hanno la spada, la spada corta ma uno soltanto ha il cosiddetto bastone del comando che è un oggetto che non è diffusissimo e che dovrebbe indicare proprio una particolare funzione del defunto. In questi giorni di mostra mercato dedicata al principe della tavola è possibile ammirare anche una mostra con preziosi documenti riguardanti il paese provenienti dall'archivio di stato di Sernia che spaziano dal diciottesimo al ventesimo secolo ma il motivo principale per venire a San Pietro Avellano è sempre quello fare incetta di specialità a base di tartufo bianco. Quest'anno la raccolta non è andata benissimo a causa della siccità. I prezzi oscillano infatti tra i 4 e i 6 mila euro al chilo. In compenso il prodotto venduto è eccellente. Ne abbiamo pochissimi, la qualità però è ottima, non sono tanto grandi e comunque costano parecchio. Quest'anno quanto si arriva al chilo? Ci aggiriamo dalle 450 euro letto fino alle 600 euro letto. Siamo sulle 450-500 letto il bianco e l'uncinato sta a 500 a chilo. Con il proseguire di questa siccità abbiamo avuto questa realtà di oggi che è la mancanza di tartufo quasi l'assenza se vogliamo ma quello che c'è fortunatamente è molto molto prelibato e di ottima qualità però molto molto raro se vogliamo. E' tutto per questa edizione della domenica del nostro telegiornale. Grazie a voi come sempre per aver scelto l'informazione di Telemulisi. Arrivederci. Grazie a tutti.